Il nuovo ordine dell'Impero è il venituro! Schiacciamo questa ribellione! Stanno tenendo un netto vantaggio! Non fa la rovescia! Qual è il piano? Inizio l'attacco! Mi ripeti, sono in chiaro vantaggio! Ecco! NEMICO A POSSATA! CARICA! CARICA! CERTIAMO TERRENO IN TAMPE! CHEDI SAFERICA! Professoristi come noi non possono perdere! C참iamo qualche ribelle! La sentinella è il problema! La sentinella! Noi, 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 noi! Abbiamo un problema, continuano ad avanzare! Noi, noi, noi! 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 Stanno tenendo un netto vantaggio! Noi, noi, noi! Noi, 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 noi! Noi, 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 noi! Noi, 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 noi! Noi, 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 noi! Noi, no, 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 Ci stanno umbriando! Continua a sparare! Mastellateli! Non devono riorganzarsi! Andiamoci dentro! Corpo a corpo! Sulla testa! Basta alla rovescia! Sulla testa! Sulla testa! Sulla testa! Sulla testa! Sulla testa! Sulla testa! Sulla testa!